Volevo ringraziare il mio segretario regionale d'Eramo, l'onorevole D'Ellume, che ha voluto all'interno della Lega scegliere me come Presidente della prima Commissione in sostituzione di Vincenzo D'Incecco. Ringrazio Vincenzo D'Incecco perché ha guidato con grande capacità questa Commissione, adesso ricopro un altro ruolo all'interno del Consiglio regionale, il quale caporruppo della Lega e lo ringrazio per tutto quello che ha dato. Ringrazio naturalmente tutti i commissari che hanno voluto esprimere la loro voto per la mia persona, ma anche quelli che hanno votato scheda bianca perché hanno comunque dimostrato un atteggiamento di disponibilità, di voler collaborare. Io ritengo che sia necessario all'interno di un ambito qual è il Consiglio regionale, in specie la prima Commissione, quella della leale collaborazione, ognuno con il proprio ruolo. La maggioranza deve poter presentare il proprio programma, deve presentare i propri progetti, la minoranza controllare, aiutare nel migliorare eventualmente la proposta di legge o le proposte che vengono fatte in perfetta armonia, nel senso che ognuno deve avere sempre chiaro in mente che si sta lavorando per l'Abruzzo e per gli abruzzesi, non certo per le nostre persone, ma tenere a mente che ogni nostra azione ha una ricaduta su 1.300.000 abitanti di questa meravigliosa regione. Quindi io credo che se si lavora con questa capacità, con questa intelligenza, riusciremo veramente a fare cose ottime per tutti noi e quindi di conseguenza per i cittadini dell'Abruzzo.